Furti attentati e colpi d'arma da fuoco in strada. Sono settimane di alta tensione nel Salernitano, nella serata di venerdì, terrore in strada a Sarno, in Viangelo, Lanzetta, dove un 58enne è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco alle gambe, soccorso è stato trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta, arrestato il presunto aggressore, un 60enne, con il quale aveva appena avuto una discussione. Sul caso indaga la polizia, il prefetto di Salerno sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine sul territorio su tutti i fronti. L'ultimo episodio, anche che c'è stato a Sarno ieri sera, è stato un pronto intervento da parte della Polizia di Stato per immediatamente individuare i responsabili. Proseguono le indagini anche su quanto accaduto in queste ore a San Marzano sul Sarno. Stiamo seguendo attentamente tutto quanto accade, relativamente anche all'episodio dell'incendio dell'automobile del Presidente del Consiglio Comunale di San Marzano sul Sarno. Insomma, ci sono evidentemente vari fronti, ma l'attività delle forze di polizia, sia in via di prevenzione, sia in via di polizia giudiziaria, sia attraverso la polizia giudiziaria, è sempre molto attenta, attiva, appunto per individuare i responsabili. Mentre nel capoluogo arrivano nuove telecamere di videosorveglianza. Con le forze di polizia si studierà insieme anche i punti più utili per la posizione delle telecamere, appunto per combattere nelle zone più calde, diciamo così, i fenomeni che lì si possano verificare.